Sailor Moon o i Cavalieri dello Zodiaco? Eh no, dai! No, non voglio questa responsabilità. Allora, allora, i fatti sono che si dice... Sei il Cavalieri dello Zodiaco? Cavalieri dello Zodiaco. Povera Sailor Moon. Eh dai, stronzo! Buonasera. 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 Buonasera, Emanuele Casto. Buonasera. Un saluto alle persone presenti, anche se non so se in questo momento si vedranno per chi recupererà postuma questa puntata, quindi un saluto anche a chi ci sta ascoltando quando ormai sarà tutto finito. Il fatto che tu abbia usato postumo ci fa capire quanto credi in questo progetto. Morirà molto presto. Morirà molto presto. Ma in realtà non lo conosco abbastanza per avere un'opinione di questo tipo. Questo mi piace, questo mi piace molto. Allora, Emanuele Casto, come si dice per chi non lo conoscesse, ho segnato, sono tante le cose, quindi è un elenco abbastanza veloce, poi toccheremo e torneremo ad approfondire. È un cantautore, performer, game designer, imprenditore, consulente, attivista, cura rubriche a tema LGBTQ+, legate all'affettività, ed è presidente del Mensa Italia. Tutto corretto o consulente? Questo è un titolo che non avevo. È tipo madre dei draghi. Cioè quella roba lì. Consulente mi mancava, non so cosa fare. Però lo sei. In che ambito? Adesso. Questo diventa difficile per me. Va bene, comunque tutto il resto è corretto. Però fai ancora dei lavori di consulenza? Ah, di comunicazione. Però quella è più la mia formazione. Ok, diciamo che forse non avrei dovuto metterlo così in alto nell'elenco. Però va bene, non è una cosa denigratoria, è solo immeritata. E pare anche che sia una persona estremamente generosa, perché altrimenti non sarebbe venuto qui. Questo non... Ah, beh no. Una deduzione, non è un fatto. Ma no, contavo anche in un tornaconto. No? Ah, nel senso... Non economico. Non economico. No, no, no. Stavo pensando economico. Stavo pensando... Ci mancherebbe. No, no. Anche perché andremo su TikTok, su Instagram, su YouTube. Ah, beh. Cosa mai viste. Cosa mai viste prima. Mai viste prima. Non so se tu conosci Inter, in generale. Allora, per conoscere meglio ovviamente il nostro ospite faremo un pochino di approfondimenti sui vari aspetti della sua vita, professionale, insomma, vediamo un po' cosa viene fuori. Per iniziale facciamo quello che facciamo con tutti. Cioè la rubrica che si chiama Come ci sei arrivato. Sono cinque domande secche che fa il nostro maestro Venezia, Giacomo Venezia. Twitter fa e io mi taccio. Esatto. Ma secche nel senso che devo rispondere brevemente? Sì, magari non sotto i cinque minuti. Ok. No, abbastanza secca. Va bene, va bene. Comunque vedrai che sono domande abbastanza dirette. Ah, ok. Non ci gliano risposte laconiche. Di cui la prima è dove eri prima di arrivarci? Sai che non la... Io intendo molto letteralmente quello che mi viene detto. Di arrivare dove? E... Avere fatto il percorso che hai fatto. Ad essere arrivato o qui alla merenda. Sai che questa domanda mi mette in crisi? In crisi. Giuro. Ti prego me la puoi rifiutare. Tipo cosa stavo facendo prima di fare quello che sto facendo? La risposta è il consulente. No, in realtà un po' diciamo chi era Manuel Cuni prima di diventare Manuel Casto che è oggi. Se le domande sono tutte così non ne usciamo. Questa è la vostra idea di domanda puntuale. Doveri prima di arrivarci in stazione? Cioè, doveri prima di arrivarci? Doveri prima di diventare Manuel Casto. Doveri? A Bologna. Perfetto. Seconda domanda. Va bene? Va bene. Ok, perfetto. Molto secca. Vai. E chi ti ha fatto perdere tempo? Terribili ste domande. Le ha fatte lui, giuro. Chi mi ha fatto perdere? Nel tuo percorso. C'è qualcuno che... o qualcosa? Concezioni errate su quello che pensavo di dover fare per poter avere un'opinione alta di me a livello professionale. Per concetti di questo tipo mi hanno rallentato. Che è un modo sofisticato e molto bello per dire me stesso. Eh? Ah! Queste idee erano ascrivibili alla mia forma mentis dell'epoca però non le farei coincidere con me stesso. Però non è stato un altro. Corretto. Cioè ci tornando indietro con le conoscenze di adesso avrei perso molto meno tempo rispetto a quello che ho. Sì, però non è che mi rimprovero perché se non avevo determinate comprensioni se non avevo ancora sviluppato una certa maturità ma a fronte dell'esperienza non è che era una nozione che mi potesse venire data. quindi non so neanche se la vedo come una perdita di tempo cioè sono stati degli step necessari. Cioè chi ha incolpato i professori abbiamo iniziato bene. Ma è difficile è molto difficile che tu mi senti a incolpare qualcun altro però è una questione proprio di approccio mio. Ok, mi piace. Va bene. Terza, un po' più semplice. Ma non è che le altre non fossero semplici che non avevano senso. Vabbè, comunque vai speriamo una domanda letterale dai sentiamo vai. Allora, se non ci fossero limiti geografici storici o di codice della strada sì con che mezzo ti sposteresti? Così, spara. Questa è beccata una categoria di domande che odia ancora più delle altre. Conta che a me mette in crisi la domanda il tuo libro preferito perché dico almeno dividiamo fantascienza a libri storici mi devi ti prego mi restringi il campo io non so rispondere a queste domande non sto scherzando proprio mi si spegne il cervello non lo so bicicletta sì, bicicletta volante bicicletta volante no, no che va su strada non mi piace volare non ti piace volare neanche il teletrasporto il teletrasporto non l'ho mai provato vorrei ci fosse, sì quindi teletrasporto più di bicicletta se non ci fossero limiti di cose che non puoi provare non l'ho mai provato ok bicicletta bicicletta sì la prossima l'ultima no, non è l'ultima la penultima penultima cazzo che è ci siamo quasi sì che è per che cosa rinunceresti a tutta la tua cultura alla cultura all'intelligenza cambiato radicalmente no, no per la cultura scusa cultura ok intesa come ciò che so di sapere ciò che sai di sapere ciò che determina quello che sei perché alla fine ma non saprei più spostarmi nello spazio se perdessi queste nozioni però magari per il trasporto per dire sì ma non so dove andare non ho la concezione di spostamento se perdo tutto ciò che so quindi niente però potresti ricominciare estremamente abbiente da zero ma estremamente non sapendo dove mi trovo non avendo una nozione di capitale no non posso perdere ciò che so però è una bella risposta è certo ma non avevamo dubbi su questo il dubbio era sulla bontà delle domande non su quello attenzione all'ultima domanda per la quale farò finta di non avere paura e non puoi rispondere quello che vuoi ovviamente però tranne se possibile usare l'espressione si rivede cioè non usare per favore le due parole si rivede in quest'ordine che comunque non me la sarei mai aspettato quello che vuoi però per favore non dire si rivede sono curioso di capire quale domanda rende così ghiotta questo tipo di l'opzione chi non muore non è un essere umano un robot bello un applauso un applauso quindi non ambisce all'immortalità in che modo deduci questa cosa da quello che ho detto prima mi piacerebbe nello specifico vorrei l'immortalità ma con la possibilità di ridarla cioè non la condanna a vivere per sempre qualsiasi cosa succeda perché già mi immagino perso su un asteroide tipo col sistema solare esploso no la possibilità di scegliere io quando muoio sì la vorrei ah ok ovviamente immortalità intesa anche senza processo di invecchiamento e beh certo non voglio avere 300 anni con un processo di invecchiamento di 300 anni e quindi a quale età ti fermeresti? da adesso indietro a quale sceglieresti? bello che tu abbia perché ovviamente ti avrei detto adesso tornando indietro sai che invece scelgo comunque adesso perché ho un bilanciamento insomma di forma fisica mentale nel complesso che mi soddisfa più di quello del passato quindi ti direi va bene adesso non ti chiedo se a questo punto però potrebbe essere meglio fra un anno perché non sapendolo è inutile perché non posso saperlo esattamente sto cominciando a capire come fare le domande però prenderesti il rischio di dire no 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 perché rischi malissimo anche domani rischi il rischio lo corri se non sei soddisfatto delle condizioni attuali e allora lanci i dadi ma se non sei mediamente soddisfatto non lancerai quei dadi prego vai allora partiamo un po' anche dato tuo percorso no ok domande di cose che hanno senso adesso perfetto ok no allora tu hai iniziato indicativamente agli inizi del 2000 c'era ancora corregimi se sbaglio no no sì sì qualche anno dopo ma è corretto hai iniziato che c'era MySpace non c'era Instagram non c'era riguardando retrospettivamente questo tuo percorso è stato lento o veloce cioè come come l'hai vissuto si vorrei chiedere rispetto a cosa veloce o lento rispetto a cosa beh rispetto a quello che tu avresti voluto ok perfetto grazie allora è stato veloce in termini di esposizione molto lento in senso di consolidamento di una professione inteso proprio come farmi pagare per ciò che volevo fare per questo ci sono voluti molti più anni mentre la prima parte è stata veloce possiamo approfondire vi va questo discorso allora io ho assistito a due cambiamenti di paradigma molto importanti da quando ho iniziato a muovermi che hanno a che fare con la tecnologia entrambi partiamo dal primo forse quello un po' più friccicarello che ha a che fare con la celebrità io tuttora essendo nato agli inizi degli anni 80 ho comunque in testa un'idea di celebrità che in realtà ora sta andando proprio sfaldandosi che è quello della celebrità che io definisco verticale quando io ero adolescente la figura di maggiore spicco nella politica della televisione era Silvio Berlusconi in famiglia era adoratissimo sono di Bergamo quindi era molto sentito in quella zona lui diceva sempre con cognizione di causa se non è in televisione non esiste all'epoca infatti o ti conoscevano tutti o non ti conosceva nessuno c'era il concetto appunto di palinsesto in cui noi si avevamo dei canali tra cui scegliere ma subivamo i contenuti che qualcun altro aveva scelto per noi quindi o davvero c'era una celebrità totale o semplicemente è risconosciuto c'è stato poi l'avvento del media uno a uno e noi non torniamo più indietro c'è quello per cui decidiamo noi di cosa fruire quando vogliamo e questo ha fatto sì che si sia frammentata la celebrità e su tantissimi fattori molto su base demografica su base politica su base degli interessi o addirittura sulle community ci sono creatori che hanno un seguito enorme su youtube e sono sconosciuti su facebook uguale twitch è veramente molto interessante questa cosa io costantemente entro in contatto con persone che sono un'autorità nel loro ambito che non conoscevo prima e io non guardo la televisione nel senso proprio l'antenna da 15 anni se qualcuno è diventato famoso con la televisione negli ultimi 15 anni io non lo conosco mi troppo deve essere spiegato e sono certo che sia così per tantissime persone che sono migrate in questa in questa direzione e fra l'altro la scena cioè io sono abituato a scene di questo tipo che tipo vado al ristorante mi siedo e a fianco c'è una persona che inizia un po' a guardarmi a un certo punto fa no scusa te lo devo dire per me è come se fossi a cena a fianco di Dio madonna no no tavolo a fianco che guardano dicendo ma che cazzo è questo questo è proprio il classico che sono anche due cose che si dicono di Dio fra l'altro fra l'altro esatto quindi insomma io ho iniziato quando questo stava iniziando a succedere c'erano i primi social e all'epoca c'era una definizione che adesso ci farebbe molto ridere che era web celebrity non so se ve l'avete ricordato io ho definito una web celebrity come se ci fosse la celebrità vera che è quella televisiva e poi c'è questo strano fenomeno adesso in realtà è totalmente scomparsa questa divisione se non per alcune fasce demografiche tipo mio padre che ha 80 anni continua a chiedermi ma allora quant'è che ti vedo in televisione lui vorrebbe quello e gli ho già spiegato che a me continuano a proporre i reality che io non posso fare non posso per tutta una serie di ragioni proprio però quello sarebbe il suo sogno perché ha quella ha quell'idea lì e un tipo di esposizione l'ho avuta molto velocemente in quel momento i primi articoli che sono usciti su di me sono usciti per questioni tecniche perché scandisco le parole perché faranno molto ridere adesso perché avevo creato un blog mettendo gli mp3 in streaming tre parole che mi valevano un articolo quando la gente andava ascoltare le canzoni parlavano di buccacche e quello valeva il secondo articolo quindi ho avuto effettivamente questa prima ondata di visibilità poi è arrivato youtube poi è arrivato facebook che non c'era all'inizio prima appunto c'erano i blog c'erano i forum ma non era qualcosa che prendessi sul serio era un gioco per me un gioco molto divertente è stato solo qualche anno dopo che sono stato approcciato da quello che è diventato il mio manager che mi ha fatto due discorsi molto seri li dico a beneficio di chi ad esempio vorrebbe iniziare una carriera artistica e si interfaccia con agenti che è una figura importante da avere anche solo per questioni razionali nel senso tu come artista non puoi dire di no anche perché c'è chi non accetta un no non ti puoi accapigliare devi avere una persona che lo dica per te questa per me è una delle funzioni principali dell'avere un agente la prima cosa che mi ha detto è stato allora io credo nel tuo progetto credo nel tuo talento penso che tu abbia molto da dire e subito abbiamo impostato degli accordi economici per cui lui avrebbe preso una parte dei guadagni ora questa cosa è ovvia è scontata funziona così con un agente si stabilisce una percentuale prende quella parte sugli ingaggi ma lo dico perché ci sono ancora tanti truffatori che invece chiedono agli artisti degli anticipi no allora chi dice questo significa che la sua forma di business non è guadagnare attraverso di te facendosi dare i soldi dal pubblico o da un'etichetta ma guadagnare su di te i soldi li prendi da te una volta che li ha presi basta il suo modello si è esaurito così quindi una cosa molto seria del tipo non guadagneremo molto all'inizio mi prendo una percentuale inizio a promuoverti cerco di portarti nei locali ti presento all'etichetta questo deve fare un agente la seconda cosa che mi ha detto è stata poiché il tuo tipo di proposta non si può inserire almeno adesso c'è anche lungimirante nel mainstream l'unico modo che tu hai di lavorare è la goccia che scava la pietra e così è stato e così è stato quindi questo aspetto è stato lento poi è arrivata una grossa casa discografica poi sono arrivati i tour nazionali e adesso nell'ambito della scena alternativa che è grossa adesso è veramente grossa perché risponde a esigenze di mercato che sono lasciate insoddisfatte invece dal commerciale proprio a livello proprio di contenuti per intenderci e adesso sono molto soddisfatto però questa parte è stata lenta e non ho sofferto perché mi piaceva io a prescindere da quello che fosse stato l'outcome professionale avrei fatto quello che volevo fare perché mi divertiva e tuttora questa è una delle ragioni principali per cui faccio quello che faccio tu hai elencato tutte le cose che faccio alcune cose a livello di personal branding sono in contraddizione tra di loro serve meglio fare una sola cosa fare quella essere riconoscibile per quella avrebbe l'effetto collaterale questa scelta non secondario che sarei triste che inizierei a deprimarmi e quindi insomma se devo scegliere tra un percorso più veloce e la mia salute mentale scelgo la salute mentale essere contento di quello che sto facendo insomma visibilità veloce struttura professionale lenta a proposito di depressione due almeno ragioni per cui non fai reality due ragioni? no hai detto che ne ce ne sono varie ok ti rispondo in maniera molto sincera sono dei contesti che per me proprio non sarebbero accessibili io ad esempio ho alcune difficoltà nella socializzazione che mi può far piacere ma solo per periodi contenuti di tempo perché mi richiede tantissime energie inoltre ho moltissimi tic stereotipie alcune sono cose che mi danno piacere le stereotipie e i tic sono cose fastidiose che devo trattenere ma riesco a farle per una quantità di tempo io non posso pensare di stare sotto le telecamere per giorni a mascherare cioè avrei proprio dei seri proprio seri problemi di salute è una cosa che non posso considerare questa è la ragione principale poi c'è lo snobismo però su quello per i soldi ci si passa sopra onore onore che hai messo prima la parte personale vero onore a te che hai detto prima la parte personale e poi hai messo lo snobismo ok io avrei messo lo snobismo a prescindere per primo no 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 ma guarda ho fatto di quella roba guarda no 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 quello proprio non me ne frega minimamente poi sono sempre qua io vorrei comunque capire chi è che si informa un attimo su di me mi sente parlare e dice ma sai cosa è proprio perfetto questo lo vedrei bene su una spiaggia a litigare con un ex calciatore per una banana lo vedo da dio però la gente ha paura questa cosa così specifica questa immagine così specifica mi fa pensare che comunque la televisione forse l'hai vista negli ultimi 15 anni è clip è clip certo non la guardo oppure vabbè si capisce sono stato contattato più volte per un format che è molto apprezzato perché quello è più un adventure game ha una parte culturale interessante credo si capisca di cosa sto parlando ma l'ultimo provino è stato abbastanza comico allora ogni volta che mi chiamano in queste cose l'unica cosa che posso fare è essere me stesso e pensare ok l'unica possibilità che mi possano prendere è che io dica delle condizioni loro le accettino e che stiano cercando una persona che è fuori contesto invece no vogliono veramente una persona nel contesto io questa è una cosa che non posso dare comunque inizio a fare una serie di domande al casting dicendo allora ma io posso portare un libro e chiedo no ma mi preoccupa la domanda perché vuoi portare un libro per isolarmi non puoi isolarti tu tipo sei nel carrozzone di maiale devi parlare col conducente e presentarcelo ma io non questa non è una cosa che posso fare ma tipo i tappi per le orecchie no assolutamente no tu devi ascoltare poi va avanti faccio ti piace viaggiare no mi causa stress e in generale non mi piace stare alla reperta e è molto difficile per me conoscere persone nuove ma scusa ma perché tu vuoi fare questo programma ma io non voglio ma infatti vi avete chiamato voi c'è un malinteso all'inizio però perché è accettato perché mi interessa il beneficio di immagine che avrei nel fare questa cosa quindi io vorrei capire se vi posso sfruttare non mi hanno preso guarda caso guarda caso però ogni tanto prendono personaggi che sono fuori contesto vabbè però potrebbe essere in realtà molto divertente sarebbe bellissimo tutti intimoriti dalla dialettica tutti che scappano tu non hai neanche bisogno di cuffie scappano loro veramente non potrei cioè la storia delle telecamere fisse non è un'opzione vabbè prego allora ho già risposto praticamente a tutte le domande business un po' più che avrei voluto chiedere ma il tema c'è una differenza tra mantenere le proprie passioni come hobby e trasformarle in lavoro in professione sì tu quando hai deciso di fare questo scatto questo cambiamento è per capo allora l'ho sempre voluto fare ma ho iniziato a riflettere sull'opportunità di farlo solo di recente l'ho sempre voluto fare ma perché avevo questa idea con cui siamo cresciuti per cui comunque la tua realizzazione passa dallo status professionale e quindi se hai passione per qualcosa devi farne un lavoro altrimenti sei un fallito io sono stato cresciuto così per intenderci questa era l'idea adesso si sta invece mettendo in discussione ed è molto importante quindi no io ero determinato comunque nel momento in cui avevo una passione dovevo riuscire a farla a livello più alto possibile però primo c'è un grosso problema se si pensi che l'amore per se stessi debba dipendere dallo status professionale il misurare il successo in termini appunto di carriera o di stipendio anziché valutarlo con un approccio più olistico non nel senso di piramide di giada che attira l'energia astrale nel senso di toto di salute fisica mentale tempo libero affetti per intenderci non c'era questo prezzo cioè io sono nato all'inizio degli anni Ottanta e non c'era assolutamente questa impostazione qui e io ho interiorizzato quella che c'era e quindi questa è prima cosa seconda cosa trasformare una passione in lavoro ha un costo e bisogna essere esserne consapevoli quando lo si paga sostanzialmente sarai costretto a fare questa cosa anche quando non ne hai voglia e che abbassa il tuo livello di gradimento non lo anichilisce continua a avere passione ma c'è qualcosa c'è qualcosa che cambia c'è qualcosa che cambia prima era solo una fonte di piacere adesso inizia a essere anche una fonte di stress un pochino di disamore si può verificare anche molto disamore in caso di burnout a cui io sono prono all'inizio ero terrorizzato cioè mi è proprio capitato una volta di dire a me fa schifo io non voglio mai più relazionarmi al pubblico non voglio ho sbagliato tutto nella vita invece ho scoperto che sono delle fasi innanzitutto non devo raggiungerle fermandomi prima e se poi succede devo mettermi tranquillo ridurre le sforze al minimo e poi la passione proprio rivampa mi succede sempre è parte di me però ha un costo questa cosa e non solo soprattutto se si applica questo approccio a tutto e io tendo a farlo io appena ho un interesse cerco di capire in che modo posso fare un lavoro in che modo posso guadagnarci c'è proprio la mia forma mentis e invece ho imparato a non farlo perché poi non mi trovo con più niente che mi possa rilassare che mi possa divertire senza pressioni quindi il fatto che sia cambiato un po' dagli anni Ottanta ad adesso e tu ne te ne sei accorto perché hai vissuto questo cambiamento per fortuna forse potrebbe anche portare alla conclusione che mantenere una vellità nella sfera hobbistica come hobby non è per forza una sconfitta nel modo più assoluto anzi no 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 non la venderai neanche come opzione è importante scegliere alcuni interessi da tenere strettamente come hobby ma perché proprio il proprio benessere passa da quelli unica cosa mi dai la tua definizione di velleità perché se me tu la sbagli che cos'è sconte una velleità attenzione se il professore di comunicazione sbaglia la definizione di velleità no scusami no no non voglio scorti a questa cosa volevo farti notare che vita faccio cioè tu già mi hai fatto una domanda a cui dovevo rispondere lui ci ha messo un carico gratuito in più eh ma io da se ripetere la domanda non c'è bisogno che rispondi no 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 perché no siamo qua apposta siamo qua per intervistarmi e per mettermi in difficoltà quindi che problema c'è la velleità è qualcosa che tu vorresti fare e che forse non sai fare aspetta ok nella misura in cui saperlo fare è determinato il saperlo fare o non saperlo fare è determinato dal riscontro che hai dagli altri quindi il riscontro che hai dagli altri non sempre entra nella sfera obbistica ok ok una buona puoi chiudere facciamo un applauso al professore per favore grazie no ce l'ho con lui ovviamente ci mancherebbe tu hai fatto una domanda normale ti avrei risposto normalmente no è corretto perché è un'accezione molto negativa spesso la sento utilizzata a sproposito la mia definizione brutale è ambizione non sostenuta da capacità però tu l'hai ampliata in modo molto interessante però la tua idea delle capacità è basata sui feedback esterni quindi potrebbe essere falsata va bene ok scusate no 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 ho apprezzato la risposta quindi è quella che poi cercavamo cioè no non c'è nessun bisogno di farle per forza al lavoro il fatto di non fare un lavoro non svilisce le proprie passioni no ma di nuovo non è che non c'è bisogno secondo me è proprio sbagliato fare tutte le passioni il lavoro è questa non è una cosa scontata però per nulla ah ok ok vai ah è il tuo momento no ce n'è un'altra secondo me non te la ricordo più c'è un sacco per dire serie tv sono appassionatissimo oppure fare recensioni di giochi da tavolo c'è un sacco di cose che potrei fare però no no decido che tutto il mondo ha le serie e lo tengo per piacere ad esempio quindi anche questo potrebbe rimanere comunque un hobby e una passione non dover per forza sfociare con Edoardo che è la questione secondo me centrale è questa passando al termine più personale o comunque più di esperienza personale il rapporto tra personaggio persone eccetera cerchiamo di capirlo la questione del riscontro è una questione di rimente in ogni contesto in ogni cosa che fai in ogni azione che fai nel momento in cui ti esprimi fai qualcosa di artistico ora probabilmente è successo anche qua all'inizio però mi sembra vedendo molto le tue interviste immaginandomi anche perché non ti conosco però immaginandomi delle cose da quello che dici da quello che fai che ti capiti piuttosto spesso e ci hai dato un'idea parlando di un fantomatico reality in cui ti troveresti in situazioni difficili che tu ti trovi spesso circondato da persone che non è che capiscano quello che dici del tutto ma in che senso per colpa loro cioè in alcune interviste probabilmente è successo anche qua succederà di nuovo in cui che abbiamo visto che ho visto alcune volte mi sembra che questa linearità questa anche capacità dialettica questo tuo stile dialettico chiamiamolo stile così è neutro ti porti ti metti nelle posizioni in cui non sempre gli altri capiscono proprio tutto quello che dici e tu sembri molto molto educato molto generoso appunto non sempre lo fai notare è come se dicessi vabbè me l'accollo io adesso provo a rispiegarglielo oppure schippiamo andiamo da un'altra parte questa cosa qua è una impressione sbagliata ha un senso ha un minice di verità di qualche genere no è esattamente così però non so se la vedo come generosità è che per me veramente il 95% dell'onera della comunicazione sta al comunicatore se io dico una cosa e chi a fianco non ha capito per me è colpa mia che ho sbagliato il registro non mi sento nobile nel cambiare il registro sono io che ho scazzato sì e questa è la regola di base però tante volte è anche una questione proprio di comprensione del testo fammi dire allora ci sono delle volte in cui tu devi semplificare non devi cambiare il registro che è diverso si intendevo quello si intendevo anche quello però la mia domanda brutale è dopo un po' non dici aspetta che devo semplificare allora te lo rispiego meglio dai tranquillo non ti viene da fare questa cosa sì certo però riesci a camuffarlo bene sì dopodiché non vorrò mai più parlare con quella persona però camuffalo bene ringraziamo ringraziamo Emanuele Castro per questa serata e non credo che tornerà a trovarci no 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 è interessante io non ho veramente allora a livello performativo qua non è successo però a livello performativo posso giocare a mettere in difficoltà la persona perché credo che sia di intrattenimento per il pubblico ma in privato io non ho proprio nessun desiderio di umiliare le altre persone anzi mi dà proprio fastidio percepire la sofferenza nelle altre persone non è proprio una roba che farei mai intenzionalmente e mi sento in colpa se mi capita di far sentire l'altra persona inadeguata non voglio toccare cose troppo personali quindi tu tanto sei bravissimo a dire no non rispondo a certe cose però la questione l'hai anche detto qui nel momento in cui vai a parlare con le persone nel momento in cui sei in certi contesti sociali sai che dovrai fare tendenzialmente statisticamente più fatica degli altri mediamente qualsiasi cosa voglia dire come la vivi questa cosa qua cioè non è a un certo punto che dici però siete voi che non ce la fate sono io che mi devo sforzare ok ti so spiegare molto bene questa cosa devo distinguere tra una mia concezione e comprensione razionale e la mia percezione faccio un esempio dopo ci arriviamo immaginiamo che io non abbia la nozione di di prospettiva di deformazione prospettica ok tu mi porti sotto un grattaccello mi dici di alzare lo sguardo e mi chiedi cosa sto vedendo io ti devo dire un trapezio io avendo questa nozione ti dico è un parallelepipedo perché la nozione prevale sulla mia percezione nel discorso che ti sto per fare è la stessa cosa sì io ho una mia percezione ma la comprensione del fatto che esistano più funzionamenti che hanno uguale dignità prevale quindi io non ho quella reazione del tipo io sono superiore non succede questa cosa a livello di percezione sì sono tendo a pensare che effettivamente tendo a leggere l'assenza di linearità come sporcizia di pensiero o arretratezza evolutiva ma è una percezione poi non agisco sulla base di quella percezione faccio prevalere la nozione del fatto che no le altre persone comunicano anche utilizzando altri canali però l'esempio della percezione mi sembra perfetto perché è proprio una quantità di cose che vedi sì non è prima del modo prima del registro prima della comunicazione con gli altri è proprio la quantità di cose che vedi e ne vedi di più oltre che in un altro modo ne vedi di più e quindi sei tu che ogni volta devi dire bene ce ne sono dieci di cose mediamente le persone ne vedono sette cinque non è una gerarchia è chiaro no? cioè è chiaro per tutti non è che stiamo dicendo che uno è migliore l'altro è peggioro è proprio una questione di percezione appunto e tu devi dire aspetta è vero che io ne vedo dieci allora però cerchiamo di categorizzare dentro quelle sette così ci capiamo con tutti magari non è così non lo so allora è così ma quella cosa non mi genera frustrazione perché poi io ho anche molte difficoltà in altri ambiti ed è una cosa che ha un impatto generale ovviamente sulla mia autostima spesso sono io che devo chiedere aiuto che chiedo alle persone ad esempio di spiegarmi più volte cose che per le altre persone sono ovvie quindi poi faccio un bilancio complessivo è un patto esattamente non la vivo con frustrazione questa cosa allora non sto infilando un filtro di modestia perché è una cosa che io non utilizzo io so benissimo che a volte vengo percepito come borioso spocchioso sebbene chi mi conosce non mi attribuisca dell'arroganza intesa come volontà di sminuire gli altri per sentirsi superiore e il fatto è che semplicemente anche mettendo a bilancio tutti gli aspetti che vivo male di me stesso e su cui sono fortemente insicuro nel complesso ho un'alta opinione di me e lo dico letteralmente mentre serve prasse sociale infilarci una dissimulazione che è la modestia il non farlo può essere letto come boria ecco specifico quindi non sto facendo questa cosa non è una questione di modestia ma veramente veramente mi sento molto in difetto su certe cose e io non percepisco questa cosa cioè del dire che vedo tante cose più delle altre persone penso di avere alcune abilità circoscritte molto molto pronunciate ma sono circoscritte quindi l'effetto poi non è di scollamento rispetto agli altri che avverto indietro ok sì 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 perfetto funziona per me funziona rimanendo però sul riscontro degli altri no cioè la questione anche della conoscenza di sé di capire come si lavora con gli altri come si sta con gli altri come si significa misurarsi sì certo e misurarsi significa poi conoscersi in qualche modo assolutamente sì tu hai avuto il privilegio in qualche modo probabilmente per talento per caso per fortuna per quello qualunque cosa sia di avere diversi canali di espressione e quindi diversi metri di misurazione e diversi modi per misurarti e per in qualche modo riuscire a come dire disegnare o per almeno cominciare a delineare la tua identità sì questo è stata una fortuna è stato più complicato se ti è piaciuto è una cosa casuale a cui non dai nessun peso scusa sto tenendo un po' letteralmente il discorso della fortuna no nel senso che chi ha la più possibilità di espressione ha più possibilità di riscontro si ha comportato dei vantaggi scusa scusa non ho capito ok sì ha comportato dei vantaggi è molto vera questa cosa del riscontro è fondamentale è un pilastro dell'apprendimento cioè noi veramente conosciamo noi stessi sulla base dei riscontri che ci vengono dati sia quelli positivi che quelli negativi la nostra capacità di vederci dall'esterno è molto limitata e il percorso di conoscenza di sé io credo che lo lasceremo incompiuto al momento della nostra morte credo che veramente ogni persona arrivi tipo ogni totanni a dire oh finalmente ho capito qualcosa di me stesso due anni dopo sai che non avevo capito un cazzo adesso ho capito come funziona due anni dopo di nuovo di nuovo sei ancora lì perché è veramente un percorso secondo me che non non si conclude mai e buona parte di questo percorso viene fatto sulla base dei feedback ricevuti allora si dice che bisogna fregarci di quello che pensano gli altri è verissimo se si intende che non si può basare il proprio valore esclusivamente su quello che dicono gli altri però non è che non rilevi quello che dicono gli altri bisogna passarci bisogna proprio chiedere a volte feedback esterni per intenderci e sì certo quello mi ha aiutato a capire tantissime cose di me stesso però sì avere riscontri è importante poi tra l'altro torniamo un attimo al discorso della celebrità che io ho già definito essere settoriale se non però è contro il contro principale è che io non ho piacere essere visto per strada e riconosciuto mentre magari sto camminando in un modo un po' strano o sono vestito non di scena per intenderci quella cosa a me non piace per contro sta ogni persona a dire a se stessa che ciò che fa ha valore riuscire ad apprezzare le proprie qualità però se ti fermano degli sconosciuti per strada per dirti che sei un figo è più facile quindi questo è un vantaggio questo è un vantaggio però sulla questione scusami se io qualunque tipo di livello artistico di espressione di tensione è una tensione espressiva cioè voglio esprimermi esprimermi significa avere un riscontro lavorare con il riscontro degli altri e quindi conoscersi misurarsi quello che abbiamo appena detto ma se io lo mantengo nel lobby vivo nella frustrazione dipende se c'è un'ambizione secondo te non può esistere un hobby senza ambizione non può esistere una tentazione un conatus vabbè di quel genere lì artistico espressivo senza una qualche necessità di riscontro sono sono abbastanza d'accordo però magari possiamo discutere dove fissiamo proprio la linea tra hobby e professione per intenderci cioè magari quella cosa che si effettivamente ha un tipo di ambizione pubblica e si lo possiamo formulare così effettivamente tra l'obby totale e la professione c'è l'avere un'ambizione pubblica volere dai riscontri ma non essere determinato a voler vivere di quella cosa specifica ecco è la scelta di voler vivere di quella cosa specifica che poi ha degli effetti pesantissimi su quello che stai facendo mi riferivo più a questo è che uno stare in attesa per vedere se qualcosa succede magari con qualche qualche aspettativa qualche speranza però comunque lo mantengo hobby nel frattempo sì ma questo aspetto qua fra l'altro è molto importante anche a livello proprio di creatività in realtà cioè se stiamo parlando di questo e ora mi sembra di capire che stiamo parlando proprio di questo di tensione artistica anzi mettersi alla prova col pubblico credo che sia anche imprescindibile una cosa che sento dire spesso da persone magari giovani che vorrebbero cimentarsi in ambito artistico è non riesco a mettermi lì avrei delle idee ma non riesco a mettermi lì la mia prima reazione sarebbe dire guarda se non riesci a metterti lì lascia aperta io ti direi che il problema è che non riesci a staccarti che ti devi ricordare di farti il bidet ti devi ricordarti di mangiare perché quando vai in focus su una questione artistica tu non riuscirai a pensare ad altro però così è come funziona io non è vero ci sono altre persone che gestiscono la creatività in maniera diversa sono dei minatori dico io sanno che se devono mettere 4-5 ore al giorno a lavorare al loro progetto creativo anche se non hanno idee stanno lì finché non le trovano è un altro approccio detto questo comunque il mettersi alla prova è in realtà un driver molto importante cioè il discorso del non metterti lì è perché non hai una deadline prenditi un impegno magari con un'altra persona vogliamo partecipare a questo progetto a questo festival vogliamo fare questa cosa e allora sì lì che inizi a fare hobby proprio nel senso lo faccio solo per piacere o che lo vedo solo io è difficile che possa portare ad una crescita mettendo un po' di dati perché noi siamo riscontati un sacco di cose che fai tu magari la più classica delle contraddizioni che potrebbe esservi a scritta è che tu sei considerato perché lo sei penso anche orgogliosamente considerato un attivista del movimento LGBT Q plus dimmi se sbaglio perché ogni tanto ho paurissimo di sbagliare mi sono messo anche una I dopo la Q e il più ok i plus quando metti plus in realtà perfetto che è appunto un movimento una questione che ha a che fare con l'inclusività e poi sei presidente del MENSA questo hai discusso già in tante altre interviste quindi magari non stiamo lì a presidente del MENSA che in realtà è un'associazione esclusiva eccetera ora queste denumerevoli sfaccettature diverse che potrebbero sembrare contraddittorie hai detto anche tu che sei una persona che segue quello che lo fa stare bene invece di essere il personal branding preciso e corretto eccetera è più bello il fatto che tu lo possa essere facendolo sapere agli altri cioè funziona meglio riesci a gestirlo meglio il fatto che ci siano tutte queste cose che puoi comunicare e che riesci a mettere in ordine tu stesso rispetto a cosa meglio rispetto a cosa a chi non lo fa cioè a chi ha tutte queste cose in testa ma ha nella capacità espressiva un blocco di qualche genere e quindi non riesce a giustificare o a verbalizzare o articolare tutte queste differenze che sono tipiche di ogni identità di ognuno che sono contraddizioni interne che hanno tutti ok faccio fatica a stabilire come un'altra persona potrebbe viverlo lo paragono con me stesso se non lo facessi prima di dire così sarei più infelice se non lo facessi questo sicuramente allora non è affatto sbagliato affermare che uno specialista sviluppa nel corso della sua vita una competenza superiore a quella che può sviluppare una persona che si ci mette in più ambiti ma per una banale questione di investimento di risorse prima e fra tutto il tempo le energie il denaro questo è inevitabile però una persona che ha un approccio più multidisciplinare invece può dare un altro contributo che è legato al magari dare spunti di innovazione delle sinergie non è un contributo minoritario e non c'è una cosa giusta o sbagliata a prescindere il grosso è capire qual è la preferenza qual è la preferenza e spesso è una cosa complessa però insomma socialmente è molto più richiesto lo specialista anche perché si inquadra la famosa domanda che cosa vuoi fare da grande per intenderci per me fare tutte queste cose invece è veramente molto importante già ora sono frustrato perché ce ne sono anche altre che vorrei fare però continuamente con le mie energie ancora prima anche con il tempo allora questa domanda diventa più interessante se prochiudiamo l'ambito artistico perché io solo in ambito artistico c'è veramente il mondo c'è veramente tante cose che avrei voluto fare avresti voluto nel senso relegate all'imperfetto dell'essere temo di sì temo di sì perché ti darebbero troppo tempo ok non c'è mai il momento in cui dici ok faccio un sacco di cose basta un attimo eh sì è questo l'ho raggiunto è per questo che dico sto parlando al passato perché ci sono cose che non credo ormai di perdere quindi fuori invece dall'ambito artistico politica ecco infatti stavo per chiedere mi interesserebbe quello sì quando è che ti cambia smettila smettila dai non fare così esatto che poi lo devo dire non c'è nessun progetto serio a riguardo però a dici mai volte ormai non l'hai escluso quindi ormai è chiaro sì ma perché io tendo a dare una risposta onesta non lo escludo hai detto tutto tu non lo escludo ma non c'è un progetto serio in questo momento è una cosa che non escludo per il futuro e tra l'altro se vuoi se vogliamo parlarne tra l'altro non lo farei per le ragioni per cui solitamente viene fatto mi spiego quando sento persone che dicono di voler fare politica di solito sono messe da un fuoco molto bello che è legato a quello dei propri valori portare avanti delle battaglie è molto importante questa cosa io non la sento tanto nel mio caso è più un senso di dovere nei confronti di qualità che mi attribuisco e che penso che serve molto utile mettere a servizio delle altre persone per intenderci io e so che è una cosa un po' poco intuitiva nei confronti delle mie personalità o di cose che ho detto prima in realtà sin dalle medie ho assunto ruoli di leadership tipo in classe ma esclusivamente perché avevo la percezione che se certe cose non le avessi dette io non le avrebbe dette nessun altro non le avrebbero dette altrettanto bene combinando casini anziché trovare soluzioni e quindi anziché dire no guardate che le cose si possono fare meglio mi candidavo a farle meglio e il mio approccio serve quello semplicemente poi è chiaro che i miei valori dimmene due dimmene due dimmene uno di cosa che si può fare meglio la comunicazione disastro però la comunicazione ti devi candidare per fare comunicazione meglio io mi riferisco alla comunicazione delle istituzioni verso i cittadini quindi non parliamo di battaglie specifiche su temi specifici a cui tutti stiamo pensando perché in qualche modo rappresenti quel tipo di progressismo lì ah no beh certo poi certo in realtà ti ho voluto fare proprio un esempio legato a quello che ti dicevo prima che serve più una questione di skill e di abilità che vorrei mettere a servizio che non di battaglie poi certo che ci sono le mie battaglie però sono facilmente riassumibili nell'agenda progressista sono tutte lì sono tutte lì e lì comunque lavorerei un po' anche nella comunicazione perché banalmente per attuare queste battaglie serve forza politica servono voti bisogna sottrarre voti ai conservatori serve un tipo di comunicazione che risulti appealing a loro attualmente quella più diffusa in ambito progressista è forte per consolidare in ambito progressista l'approccio che definisco per indicare già convertiti ma non sposta voti e invece vorrei andare a prenderli che tra l'altro si va a nozze con quello che hai detto prima nel fatto che quando tu stai parlando con qualcun altro il problema è sempre tuo e quindi nella comunicazione politica è il fulcro invece di parlare dicendo se non ci votate fate la cosa sbagliata cioè questo il voto nostro è quello giusto se non sbagliate che è tendenzialmente per riassumerla la comunicazione politica progressista io parlo dal presupposto che il miglior modo per convincere una persona a fare qualcosa è convincerla che è nel suo interesse e se gli dici che è uno stronzo non ti vota fa un altro porla tu non hai mai avuto il sindrome dell'impostore sì tra i miei principali non so come posso definirli trionfi non mi piace usare inglesismo achievement come risultati raggiunti non c'è vero la traduzione precisa di achievement sì è un qualcuno degli ultimi anni è stato proprio il riuscire a essere soddisfatto di un bilancio positivo cioè arrivare la sera a casa e dire ho fatto qualcosa la lista delle cose andate bene è più lunga di quelle andate male sono orgoglioso di me prima non lo facevo prima c'era anche una sola cosa andata male mi sentivo una frode che allora non meritavo la stiva non meritavo l'approvazione in realtà è paradossale ma un certo livello di perfezionismo è segno di scarsa professionalità è paradossale questa cosa interessante che hai detto professionalità e mi aspettavo sicurezza insicurezza anche però in questo caso anche quello ovviamente perché veramente alla fine è strata solo di fare un bilancio e poi le cose che non sono andate bene non è che le devi ignorare semplicemente devi avere un mindset formamentis per usare l'inglese orientato alla crescita per cui io chiedi ciò che la prossima volta vedo di correggerle ma senza senza martoriarti insomma senza sentirti una frode perché non sei stato perfetto quanto ti diverte e non è nel senso ammiccante quanto ti diverte nel senso che secondo me ti diverte proprio neutrale neutro quanto ti diverte questa discrasia questa differenza chiara evidente tra Manuel Cuni come parli come ragioni come e l'idea o perlomeno Immanuel Casto è l'idea che c'è di Immanuel Casto rispetto alle canzoni rispetto a quello che conosciamo non mi diverte per niente mi causa divertimento anzi mi causa una blanda emozione negativa molto blanda un tempo proprio forte non è una cosa che mi dà piacere il fatto che certe persone possano identificarmi con quella che è una performance artistica non mi diverte questa cosa non mi fa neanche soffrire però non mi diverte però mettiamolo dal punto di vista snob dal punto di vista snob mettiamoci un attimo da quel punto di vista lì il fatto che le persone non siano abituate lasciamo stare capacità non siano abituate a prevedere che esistano persone che possono essere Immanuel Casto e Immanuel Cuni insieme non è divertente quando lo sei tu in mezzo quando ci sei tu il fatto che susciti scalpore è una differenza mi sembra proprio la persona da prendere riferimento come snob no come prospettiva per capire la domanda la provocazione facciamola male la provocazione quella mi piace però è quello no 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 se ho capito bene tu mi hai chiesto se io trovo divertente il fatto che le persone non capiscano che ci può essere una discrepanza tra persona e personaggio che è la provocazione no ma in qualche modo aumenta la fase provocatoria il fatto che tu non sei Immanuel Casto che quando arrivi qua non parli come nelle canzoni che non dici solo quelle cose ma parli come una delle più diciamo persone a cui sarei contento ok non sbaglio tutte le preposizioni se si candidasse nel senso come mai aumenta la provocazione no non lo so è una domanda nella mia idea mi dà l'idea che sì cioè probabilmente nel momento in cui una persona vede una cosa provocatoria ed è provocatoria in sé poi vede anche che tu non corrispondi e sei anche fatto diversamente gli va in bug il cervello perché non ha più le categorie per capire cosa sta succedendo e quindi la provocazione aumenta e io mi diverto io ma cazzo sadico ok ma sincero ok adesso ci siamo ma sincero ok ok sì forse perché io associo la provocazione proprio al suscitare emozioni negative anche piuttosto forti prima tra tutte la rabbia traggo piacere dal generare dissuonanza cognitiva ecco no e perché no è così bello perché lo vedi come errore la dissuonanza cognitiva io ho una componente sadica però non la esprimio no ma non è sadismo questo ah ok tipo degli scherzi un po' cioè è come vedere io ho delle robe sto dicendo volete che ne parliamo sì di cosa di scherzi un po' particolari sì 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 dai diciamoli io ci do veramente dentro adesso un po' meno però ci sono delle cose che non mi hai raccontato e le racconto qua sì per favore sì effettivamente per me è molto difficile ora meno di un tempo però ci davo veramente dentro allora il proprio il momento di massimo splendore è stato quando andavo spesso in un internet point vicino a casa mia perché dovevo stampare cose e all'epoca era veramente la giungla del non so come dire della sicurezza informatica potevate fare tutto quello volevate nessuno avrebbe mai saputo niente non c'era neanche il concetto di p per intenderci scherzi è abbastanza birichino non mi sto riferendo a frodi però allora cosa succedeva mi sedevo lì e c'era sempre qualcuno che non aveva fatto logout o dalla mail o da facebook io cosa non ho fatto cosa non ho fatto dimmi se questo non è approfittarsi delle debolezze degli altri poi sono io quello snob ma però attenzione poi non facevo cose ovvie che gridassero profilo hackerato ah tipo se era capivo che era la mail di uno studente andavo a leggere ho preso appuntamento con un professore mandavo una mail formale per annullare l'appuntamento cioè la cosa io soffro che poi non potevo assicurare la reazione ma io non mi hai mandato questa mail però tutta formalissima ok visto che ormai siamo in fase di disclosure totale per usare un parola inglese puoi dircelo che sei andato con il cappuccio e il cappello a ricevimento per vedere la persona che non ci andava e il professore non c'era dillo tranquillamente lo puoi ammettere che seguivi le persone per vedere come andava no no non arrivo perché comunque avevo troppo valore al mio tempo e non era un investimento che avrebbe valso io non vorrei sottolineare il fatto che più va avanti con gli anendoti più diventa snob come dicevo io prima non vorrei sottolineare questo va bene secondo scherzo cambiavo la firma nessuno controlla la propria firma dopo che mando una mail e cambiavo il titolo sotto ci infilavo delle robe compromettenti cose sottili che non si vedessero ma insomma scherzi classici oppure sul profilo facebook editavo le informazioni andavo a cambiare sempre robe discrete una volta ma lo condividevi con qualcuno o sghigliazzavi sotto i baffi ma non arrivano neanche se lo raccontavi gli amici no 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 e poi non era una cosa programmata fra l'altro io andavo lì per stampare e c'era questo profilo in cui non aveva fatto un logout e sì non ce la facevo non ce la facevo una volta ho fatto una cosa un pochino sotto al mio livello cioè meno sottile che ho iniziato proprio una conversazione su facebook c'era un ragazzo ho aperto l'ultima conversazione e gli ho scritto tipo un amico ciao ti posso chiedere una cosa faccio certi dimmi la prossima volta che ti vedo ti posso fare un pompino questo mi ha risposto ma perché fai il gay e gli ho risposto adesso non serve essere omofobi ma che cazzo stai dicendo ecco io pensate non c'erano gli smartphone all'epoca e non c'erano quindi non è che questo a un certo punto ha tirato questo un giorno poi è riparato facebook e si è trovato questa conversazione che meraviglia però ti devo chiedere prima di scrivere questa cosa tu hai guardato la foto di questa persona qui scritta non me la ricordo non me la ricordo o era solo per il gusto dello scherzo presumibilmente un'occhiata avrodata ma no 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 era il gusto dello scherzo no ma anche quando lavoravo in agenzia io nasco come in realtà art director e agli account che andavano in presentazione impostavo come prima pagina se aprivano il browser per qualsiasi ragione un porno gay e non cambiavo le intestazioni reazioni reazioni che tu abbia saputo allora di ludibrio talvolta un po' piccato ludibrio piccato mi piace molto però veniva accettato perché io poi non è che socializzassi davvero quindi ero visto come una sorta di demone infestante tipo Manuel non lo vedi mai però poi succedono cose tu sai che è stato lui senti ma no se ne hai delle altre io cioè noi abbiamo no no ma scherzo cambiamo scheda una marea una marea però dai basta no 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 ma adesso questo è un tema enorme quindi faccio solo una domanda specifica perché te l'ho sentita dire tante volte questa cosa in varie interviste però i bisessuali sono più bistrattati degli omosessuali corretto io lo penso ma perché no io l'ho imparato però sarebbe da pensare il contrario no da intuito non so contesto dimmi prima perché poi ti rispondo perché tu intuitivamente penseresti perché se io mi dovessi medesimare in qualcuno che ha qualche difficoltà a accettare qualcosa di diverso da lui penso che farebbe più fatica ad accettare qualcosa che è completamente diverso da lui e non parzialmente simile ho capito quello che intendi dire allora in termini di accettazione potresti avere ragione non lo so e poi sono dei percorsi molto molto soggettivi ma io mi riferivo in realtà proprio all'interazione sociale e al giudizio ci sono tante persone che in realtà prendendo un po' il ragionamento che hai fatto tu sebbene tu non l'abbia fatto andando in questa direzione che pensano sostanzialmente che ad esempio un uomo bisessuale sia un uomo omosessuale che non si è ancora accettato al contrario una donna eterosessuale e bisessuale viene vista come una donna golosetta in realtà è un eterosessuale ma con le amiche con un drink cos'è d'italino non te lo vuoi fare alla migliore amica hanno quest'idea qua di nuovo in un caso è un passaggio nell'altro un vizio e non un vero orientamento sessuale e in più anche proprio nella narrazione si tende a cancellare cioè proprio si parla di omosessuali di lesbiche ma si parla poco è proprio l'orientamento c'era solo uno che ha messo peggio che è la sessualità però sopra quello c'è la bisessualità proprio la sessualità quella è una malattia però la sessualità posso in qualche modo immaginare perché non c'è una categoria cioè mi togli tutto quello che io ho e quindi faccio più fatica poi posso immaginare che sia più difficile da comprendere però in effetti che la bisessualità venga compresa cioè non compresa ma categorizzata vista con pregiudizio vista con pregiudizio nel momento in cui vabbè è come me ma fa delle cose diverse ogni tanto effettivamente questo è strano disturba disturba molto anche per una questione magari di mancato binarismo o di invidia chissà forse quello guarda questo è indicativo quello che ti sto per raccontare di tantissime cose anche di quanto un certo lessico è centrato poi in uso comune mia madre aveva appena accettato la mia omosessualità che è immersa molto presto quando a 14 anni io mi sono masturbato con un porno gay nel bagno e ho lasciato lì la rivista sborrata e lei ha fatto uno più uno e ha capito che eri omosessuale e che eri didascalico estremamente didascalico ok comunque tra l'altro anche molto presto perché io non ero pronto per parlarne con lei però gli eventi hanno fatto sì che fosse necessario dopo che lei ha fatto un lavoro poi di accettazione una volta ricordo che eravamo a cena in una pizzeria e mi dice questa cosa che ora farà molto ridere che collochiamo gli anni e direi che siamo nel 95 96 no un po' di più un po' di più scusate 97 una cosa del genere lei a un certo punto mi dice io ho capito che accetto gli omosessuali quelli che non accetto sono gli eterosessuali ma è tutto a posto ma in che senso lei voleva dire i bisessuali due cose prima che lei si ponesse il problema di non accettare i bisessuali che cosa le hanno fatto però secondo che il termine eterosessuale non era affatto di uso comune era molto esotico non esisteva ma proprio in ambito tecnico ma non era di uso comune fa molto ridere adesso se si riguardano gli episodi di Friends ad esempio di cui ero ghiotto al liceo no al liceo le medie perché quello era l'epoca ad esempio capitava che loro usassero la parola straight magari di fronte ad un advance fatto da uno dei protagonisti I'm straight sono etero non veniva tradotto con sono etero perché il pubblico non l'avrebbe capito non esisteva il termine veniva tradotto in sono normale è abbastanza ghiacciante non esisteva la parola sì perché è nata in contrapposizione alla novità è nata in contrapposizione prima c'era la normalità e la devianza come direva Giorgia Meloni che salutiamo che salutiamo sempre ti devo fare l'ultima domanda perché fra un po' secondo me mi dicono che non c'è più la scheda che fa un po' freddo una domanda secca che tiene insieme un po' queste cose qua però te la voglio fare lo stesso questo lo stesso non c'entrava niente con l'impostazione sintattica della frase scusa allora il fatto che tu hai parlato il fatto dell'espressione artistica eccetera eccetera tutto insieme il fatto che tu facevi gli scherzi ma non lo raccontavi a nessuno il fatto che tu hai dovuto parlare con tua madre di una cosa che prima lei non sapeva poi l'ha saputa sì si può vivere si possono fare le cose senza raccontarle esiste qualcosa che tu puoi fare davvero e l'hai fatta senza averla raccontata in qualche modo la maggior parte sì si devi raccontare tutto quello che fai sicuramente una persona con cui non voglio entrare in contatto non raccontare tutto quello che fa forse mi sono spiegato ma io non nel senso che ti racconto la cronaca però i sentimenti le sensazioni quello che accade se non lo racconti in qualche modo se non lo esprimi se non lo verbalizzi esiste sì certo esiste sì esiste interessante tecnicamente esiste non si può vivere sempre così ovviamente però alcune cose sì sono così e va bene interessante era solo una domanda così voleva proprio una curiosità mia adesso per chiudere facciamo il giochino dell'out-out va bene adesso te lo giro così se vuoi faccio una domanda a testa se non le faccio faccio tutte io come vuoi tu puoi girarmi il momento in cui dobbiamo mandare un messaggio sono delle coppie di elementi e tu devi scegliere uno delle due perfetto quindi a cosa va la mia preferenza a cosa va la tua preferenza sono categorie mischiate non mischiate non c'è un vero criterio questo probabilmente però le due scelte sono nella stessa categoria non per forza o a volte sì ok partiamo dalla migliore A o non A A Damiano De Maneskin o Dua Lipa Dua Lipa Madonna o Britney Spears Madonna Blanco Mahmood Mahmood Raffaella Carrà o David Bowie Raffaella Carrà o David Bowie David Bowie De Andrè o Gaber Gaber Ricky Martin o Tiziano Ferro Ricky Martin Cristina D'Avena o Salvador Dalì ma Cristina D'Avena che devo dirvi è uno degli artisti più consigliati per chi mi ascolta su Spotify no non sto scherzando è un classico anch'io quando per qualche ragione devo riascoltare le mie canzoni e poi parte l'incantevole Crimi che è una questione di community semplicemente l'algoritmo quello sa è però abbiamo un featuring sì esatto Prince Michael Jackson Michael Jackson la norma di Bellini o la traviata di Verdi la traviata di Verdi castodivo mi piace molto l'ambientazione e le musiche ma castodivo la castadiva la norma mi dispiace mi dispiace educazione sessuale o educazione sentimentale sbagliata la domanda però risponderò facciamo sentimentale adulterio o incesto cosa? adulterio o incesto l'ha scritto adulterio John Travolto James Dean James Dean Ricky Gervais o Umberto Eco Umberto Eco no Oprah Winfrey o Barbara D'Urso Oprah Risico o Monopoli Risico Kenny West o Gabriele D'Annunzio Gabriele D'Annunzio Lupeno Jigen mi sto perdendo Jigen Jigen Mischeta o Batman Mischeta Occhi di Gatto o Tiger Man Occhi di Gatto Olly e Benji o Mile Shiro Olly e Benji Lady Oscar o Heidi Lady Oscar Sailor Moon o i Cavalieri dello Zodiaco Eh no dai No non voglio questa responsabilità Allora allora i fatti sono che si dice Sei il Cavalieri dello Zodiaco Cavalieri dello Zodiaco Povera Sailor Moon È il stronzo Attenzione domanda profonda Immanuel Casto o Manuel Cuni No E questo è proprio Manuel Cuni Manuel Cuni Un gatto sale sul palco afferra il microfono e dice Non è un out out lo so Sì lo so va bene ok Un gatto sale sul palco afferra il microfono e dice Non so rispondere a queste domande qua Allora saluta Ok Il gatto presta il microfono e dice Non so cosa rispondere a queste domande qua Ciao Prucic Ciao Prucic Salutiamo il Prucic No proprio così dice Salutiamo il Prucic Salutaci il Prucic Ciao Prucic Ciao Prucic Grazie mille Grazie mille